Di Bologna, mi hanno regalato questo, l'ho fatto incorniciare perché sarò orgoglioso, ma sono orgoglioso di aver potuto partire nel 66 e essere qui con voi. Ma cosa la spinse a partire? Eravamo, avevo 20 anni, quinta ragioneria, mi dissero Franco a Firenze ci sono i cadaveri che galeggiano sull'acqua. Ho sentito il dovere. Mi ha ucciso, c'è stata una colpa.